Il Consiglio Comunale Il Consiglio Comunale Il Consiglio Comunale L'amministrazione ribatte sulle tariffe mensa avvalorati dai verbali del Consiglio Comunale. Dicono da Sant'Anna che senza dubbio l'amministrazione ha ridotto nel 2012 le tariffe dei buoni mensa già decise in precedenza dal commissario straordinario e conferma con ulteriore chiarezza che per questo anno scolastico il costo dei ticket resta invariato rispetto allo scorso anno. E sulla questione degli aumenti dei buoni per la mensa scolastica c'è da registrare una nota di Sant'Anna alla quale è stata anche allegata una copia del documento approvato dal Consiglio Comunale nel settembre 2012 con il quale si delibera la diminuzione del costo dei buoni mensa. Si tratta, spiegano ancora dal Comune, dell'emendamento presentato dai consiglieri Matteo Tedde, Mariano Melis, Maria Graziella Serra e Rosa Cardo che interviene sulle delibere approvate dal commissario straordinario Ingegner Casula. La numero 25 del 2 febbraio 2012 è la numero 47 del 6 marzo dello stesso anno che adeguano in aumento le tariffe della mensa scolastica. L'emendamento approvato dal Consiglio Comunale che discute in quei giorni l'approvazione e bilancio di previsione 2012 agisce quindi sullo schema di bilancio chiuso dallo stesso commissario straordinario il 9 agosto 2012 con delibera di giunta numero 27. Questa, relativa al documento approvato dal Consiglio Comunale con 15 voti favorevoli e 6 astenuti, cita testualmente nel dispositivo di prendere atto dell'approvazione dell'emendamento relativo alla riduzione delle tariffe mensa. Sulla base di questi fatti incontrovertibili, l'amministrazione conferma con maggiore chiarezza che nel 2012 il Consiglio Comunale è intervenuto per ridurre il costo dei buoni mensa deciso dal commissario e già inserito in bilancio. Va anche segnalato, prosegue la nota, per ulteriore dovere di verità che nei verbali relativi alla discussione non risulta che ci siano state proteste da parte dei consiglieri Marco Tedde, Martinelli e Paes che evidentemente e con la loro astensione hanno se non altro convenuto che l'emendamento al bilancio parlava chiaramente di una riduzione delle tariffe. Alla luce dei fatti avvalorati dai verbali del Consiglio Comunale, si conferma quindi senza dubbio che l'amministrazione ha ridotto nel 2012 le tariffe dei buoni mensa già decise in precedenza dal commissario straordinario e conferma con ulteriore chiarezza che per questo anno scolastico il costo dei ticket resta invariato rispetto all'anno scorso, nonostante i problemi relativi a Italia le diminuzioni di risorse restino sempre forti. I stessi genitori che in questi giorni stanno formalizzando l'acquisto dei buoni, prosegue la nota di Sant'Anna, se ne stanno rendendo conto di persona. In merito alla restante parte dell'intervento dei consiglieri Tedde, Paes e Martinelli, l'amministrazione ritiene superfluo qualsiasi commento e abbondantemente oltre la sufficienza ricordare l'andamento reale dei fatti e considerare che sia perlomeno singolare, che a distanza di un anno ci si accorga di aver sbagliato valutazione, scambiando una riduzione per un aumento. Intanto è tempesta sul Consiglio regionale, indagini sull'uso dei fondi per i gruppi consigliari, tra i nomi anche la candidata del centro-sinistra in Regione, Francesca Barracciu. Sono in totale 33 gli indagati dell'inchiesta bis avviata in seno al Consiglio regionale riguardo l'utilizzo dei fondi dei gruppi consigliari. L'accusa per tutti è di peculato, ovvero aver usato queste somme per scopi differenti da quelli politici istituzionali. Ed è così che risultano acquisti di penne Montblanc, di libri di valore Rolex, spese per cene, viaggi e così via. Tra i nomi eccellenti degli indagati c'è anche la candidata del centro-sinistra per le regionali della prossima primavera, Francesca Barracciu. Oggi parlamentare europea è già sindaco di Sorgono e una fedelissima di Renato Solo. Stiamo dunque parlando di una parte della sinistra sempre dura nei confronti di chi viene convolto da processi da parte della magistratura. Dal PD fanno sapere che la Barracciu resta la candidata che sfiderà quasi sicuramente Ugo Capellacci, ma certamente lascia perplessi che come al solito una parte del Partito Democratico ancora una volta usi due pesi e due misure. E' la Confartigianato ad intervenire rispetto alla situazione politica della maggioranza e giunta comunale. Il mondo imprenditoriale dice immediatamente basta a questa agonia politica che non fa bene alle istituzioni e alla città. Diversamente adotterà le più appropriate determinazioni in tempi brevissimi. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 la nota, una svolta immediata, un gesto di responsabilità e di attaccamento alla città, la quale non può più permettersi l'impasse politico che caratterizza da troppi mesi questa esperienza di governo. Il mondo impreditoriale che rappresento, conclude Mario Piras, dice immediatamente basta a questa agonia politica che non fa bene alle istituzioni e alla città, diversamente adotterà le più appropriate determinazioni in tempi brevissimi. E sulla crisi del centro-sinistra ha postato un commento su Facebook l'ex sindaco Tedda in cui fa riferimento alle scelte delle ultime ore. La mozione di sfiducia a zoppa contro Lubrano si legge che alcune forze della sinistra cittadina proporranno, conterrà verosimilmente tutte le critiche e le censure che noi abbiamo fatto puntigliosamente al sindaco dal luglio del 2012. Ci avessero ascoltati prima non saremmo arrivati a questo punto con la città in ginocchio, le famiglie che annaspano e le imprese che boccheggiano in un clima sociale ed economico paludoso. E sempre per la politica, rischio implosione per il PD Algerosa dalla mozione di sfiducia per il sindaco, alla richiesta di dimissioni per la presidente del Consiglio veleni e pugnalate tra i vari compagni di partito. Intanto potrebbe rinascere Sinistra Ecologia e Libertà. Parlare di guerra per le poltrone ormai potrebbe apparire riduttivo rispetto a quanto sta accadendo da mesi nel centro-sinistra che ha vinto le elezioni nel giugno 2012 a sostegno del sindaco Lubrano. Oramai siamo davanti ad una lotta fratricida che sta annientando le forze politiche principali ma anche quelle minori. Il Partito Democratico è in totale sconquasso, spaccato al suo interno, si sta caratterizzando per essere una guida pessima per una città come El Ghero. La gente ha creduto in questo simbolo e lo ha votato alle comunali, scegliendo il sindaco scaturito dalle primarie, ma dopo un primo anno e mezzo di mandato siamo davanti ad un vero e proprio fallimento, caratterizzato da veleni e pugnalate alla schiena. Dalla mozione di sfiducia al sindaco, con conferenza stampa che l'annunciava, si è passata alla richiesta di dimissioni della Presidente dell'Aula Esposito, sempre PD. Iniziativa entrambe partite dei rappresentanti dei Democratici, una sorta di vendetta per le scelte fatte da Bruno e Daga, tanto è vero che voci di Palazzo danno per primo attore dell'azione volta a cacciare la Presidente, proprio quel consigliere Tanchis che solo pochi giorni fa le sedeva a fianco per pubblicizzare la mozione di sfiducia a Lubrano. Siamo al paradosso, se non riguardasse la vita di tutti noi potremmo anche riderci sopra, ma invece è una sciagurata commedia. Intanto il documento che sfiducia il sindaco arriverà comunque in aula nella forma di mozione ordinaria, dunque non sono necessarie le dieci firme. Questo per aprire una discussione in aula su quelle che sono state le mancanze dell'amministrazione Lubrano, un lungo elenco che mette a nudo un anno e mezzo di non governo. Questa in sintesi l'invericonda situazione del Partito Democratico, dove a parte il valore umano delle persone è da mettere in rilievo il fallimento della segreteria cittadina e del capogruppo consigliare. Passando alla sinistra radicale, anche qui la musica non cambia. Algherosa sta rischiando l'implosione. Forse qualche sproveduto in questi mesi ha preso sotto gamba il lavoro di Dinolfo e soprattutto i tanti voti raccimolati. Il consigliere del cantiere sociale insieme alla collega di Alghero Migliore, Maria Graziella Serra, veri pilastri dell'amministrazione Lubrano, stanno mettendo in atto da tempo la scalata a sinistra Ecologia e Libertà. Uno dei due circoli pare faccia proprio riferimento all'espomente di CEAN e con Dinolfo si stanno attrezzando per far nascere il gruppo consigliare. Tutto questo, più un'eterna indecisione su da farsi e contrasti interni, stanno mettendo a dura prova Algherosa, che rischia seriamente di scomparire, rimettendo in mano tutti i partiti fondatori con i rispettivi consiglieri di riferimento, Lacardo per Alghero Viva, Moro per i comunisti italiani e Dinolfo più la Serra per SEL. E questi ultimi chiaramente rafforzano la posizione ingiunta della caula, se non addirittura qualche nuova nomina assessoriale o di sottogoverno. I riformatori sardi si attivano in merito alla petizione che chiede al Consiglio regionale di verare la proposta di legge nazionale per abbattere il costo delle accise sui carburanti in Sardegna. La mobilitazione è già avviata nel resto dell'isola, raccolto all'adesione di quasi 20 mila sardi e prosegue online all'indirizzo www.riformatorisardi.it slash petizione. L'appuntamento per la firma è domani, scusate, venerdì 4 ottobre in Piazza Sulis presso il Bar Ciao Ciao dalle ore 10 alle 12. Sarà presente anche il consigliere regionale Pietrino Fois. La cittadinanza tutta invitata a partecipare ad un'iniziativa che potrebbe veramente aiutare il popolo sardo riducendo i costi dell'energia per chi vive e lavora nell'isola. E sabato 5 ottobre Poste Italiane attiverà ad Alghero un servizio postale temporaneo con l'emissione di un annullo speciale filatelico celebrativo del 130esimo anniversario della Fondazione della Società Operaia di Mutuo Soccorso. Lo sportello verrà allestito nella sede della Fondazione Meta in Piazza Portaterra e sarà operativo dalle 9 alle 14. Dopo la giornata celebrativa l'annullo sarà trattenuto per due mesi a Sassari nello sportello filatelico dell'ufficio postale di via Brigata Sassari. Ed ora diamo la linea alla regia per la pubblicità. A tra poco.